buonasera benvenuti a drive buonasera un gelato da ignorantone quelli senza fronzoli solo gelato a bianco senza niente si si tutto e l'altro non serve niente ok vuole il cono o una coppistina? è gelato solo però se mi devi dare il cono le do il cono? si ma io mi serve gelato un cono da va bene va bene ok venga l'altro no solo gelato solo gelato solo gelato solo gelato bando però e basta gaspo o che basta? Grazie a tutti.